Musica Visto dalla telecamera del drone che sorvola il parco naturale di Conca Cialancia, area protetta tutelata e gestita dalla città metropolitana di Torino, sembra una formichina. Invece è uno dei concorrenti dell'Iron Bike, il massacrante ride in mountain bike inventato dal cuneese Cesare Giraudo, che ha preso il via sabato 24 luglio da Entracque e si conclude sabato 31 con l'ormai tradizionale gran finale a Sause Dulcs. Data la delicatezza e unicità dell'ambiente naturale, l'attraversamento della Conca Cialancia, cui si riferiscono le immagini, è avvenuta con il parere favorevole della Direzione Sistemi Naturali della città metropolitana, che ha valutato l'impatto della corsa sull'ecosistema. All'Iron Bike, patrocinata dalla città metropolitana, partecipano concorrenti da tutto il mondo. Dopo il prologo di Entracque, la tappa di domenica 25 luglio si è conclusa ai 2302 metri di altitudine del rifugio Fauniera in Valgrana. A seguire le frazioni con arrivo a Revello, in Valle Po, a Prali, in Val Germanasca e a Prarostino. La salita e discesa dell'Albergian per raggiungere il traguardo di Villaretto di Rur, in Val Chisone, la penultima frazione con arrivo a Cesana e la conclusione a Sause Dulcs. Il ride prevede ogni anno una o più prove speciali per ogni tappa, consecutive o intervallate dai tratti di trasferimento.